La tradizionale cerimonia di premiazione dei lucchesi che si sono distinti all'estero si è tenuta domenica pomeriggio nel complesso monumentale di San Micheletto. La Camera di Commercio e l'Associazione Lucchesi del Mondo, nonostante le difficoltà del momento per le conseguenze della pandemia dovuta da Covid-19, hanno ritenuto di assegnare anche per l'anno 2020 questo importante e prestigioso riconoscimento. Sono stati premiati i conterranei che, operando nel campo dell'imprenditoria e del lavoro, delle professioni, della cultura e del volontariato, hanno contribuito alla crescita economica e sociale dei paesi di accoglienza, tenendo alto il nome di Lucche e della sua provincia. Il premio venne istituito 50 anni fa, nel 1970, quando analizzando la lunga storia migratore dei lucchesi, fu evidenziato come fossero spesso emersi personaggi importanti e famosi, sia durante il lungo periodo della Repubblica Lucchese, sia dopo l'unità d'Italia. La cerimonia di quest'anno non ha visto la presenza di tutti i premiati, anche per le ben note difficoltà dovute all'emergenza sanitaria. Pertanto, la Camera di Commercio di Lucche e l'Associazione Lucchesi nel Mondo hanno deciso di consegnare la medaglia e l'attestato a coloro che sono impossibilitati a partecipare all'edizione 2020 nel corso della cerimonia di assegnazione dei premi che si terrà nel 2021.